A sinistra è dal 2008 ed è aperto il pezzo da mezzo di Venezia e è disegnato da due architetti danesi chiamati Don Kozanda. Qua davanti invece vediamo la casa dell'opera dal 2005, disegnata da Henning Lasna, ha costato due e mezzo miliardi di corone per mezzo, sono 333 euro di euro, hanno pagato mezzo, e la casa dell'opera è la casa più grande qua a Kopenhagen, con 41.000 metri quadri, 14 piani e circa 1.000 stanze, e se vi interessa l'opera vi lo posto in tutta la città dove si trova. Questa è un'opera da vota io.